Via Vampa, zona industriale di Bellocchi, ore 7.30 di questa mattina, una cisterna in una semicurva perde d'erenza con l'asfalto. Il suo autista non può far nulla per evitare l'impatto contro un muretto di recinzione di un'azienda locale e il camion si intraversa. Dopo nemmeno 10 minuti, una Fiat Punto, condotta da un giovane del posto, subisce la stessa sorte, pattina sull'asfalto e impatta sul marciapiedi dalla parte opposta, lato monte. All'arrivo dei vigili del fuoco e della polizia locale sembrava esserci un unico sinistro, ma in realtà sono stati due episodi autonomi e indipendenti. Unico punto in comune, la causa della fuoriuscita di strada, probabilmente il fondo stradale ghiacciato, a quell'ora il sole non aveva ancora fatto il suo effetto e forse anche alcune chiazze di carburante sull'asfalto. In entrambi i casi, però, solo danni ai veicoli che, per essere rimossi, hanno fatto ricorso al carroattrezzi, mentre rimasti illesi i conducenti. Fortunatamente, la cisterna che trasportava ossigeno aveva scaricato a pochi istanti prima il suo contenuto in un'azienda poco distante dal luogo dell'incidente e quindi, al momento dell'impatto, era vuota. Altrimenti sarebbe stata una potenziale e pericolosa situazione, delicata anche per i vigili del fuoco. Nell'urto contro il muretto, però, la motrice si è intraversata e ha rotto il serbatoio del carburante, con la conseguenza fuoriuscita di nafta. Sul posto, per mettere in sicurezza l'area, la squadra dei vigili del fuoco di Fano e una pattuglia della polizia locale che ha eseguito i rilievi di legge.